O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Eterno Padre che con infinita misericordia ricompensi chi fedelmente ascolta la Tua parola. Per l'amore purissimo che Tua figlia Santa Teresa ebbe per Gesù bambino. Così da obbligarti ad esaudire in cielo i Suoi desideri. Poiché Lei sulla terra aveva diritto con gioia alla Tua volontà. Mostrati propizio alle suppliche che per me Lei stessa ti implora. Ed esaudisci le mie preghiere accordandomi la grazia che ti chiedo. Padre nostro che sei nei Cieli. Si è santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno. Sia fatta la Tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Eterno Figlio Divino che hai promesso di ricompensare. Anche il più piccolo servizio reso al prossimo per tuo amore. Volgi io sguardo alla tua sposa Santa Teresa di Gesù Bambino. Che ebbe tanto a cuore la salvezza delle anime e per quanto ha fatto e sofferto. Ascolta la sua promessa di trascorrere il cielo facendo del bene sulla terra. E concedimi la grazia che con tanto ardore ti chiedo. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eterno Spirito Santo che hai arricchito con tante grazie l'anima eletta di Santa Teresa di Gesù Bambino. Io ti scongiuro per la fedeltà con cui corrispose ai tuoi santi doni. Ascolta la preghiera che per me lei stessa. Ti rivolge e accogliendo la sua promessa di lasciar cadere una pioggia di rose. Accordami la grazia di cui ho tanto bisogno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.